Nel Cilento ancora riflettori puntati sul personale del San Luca di Vallo della Lucania, un'infermiera che lavorava presso la medicina d'urgenza e risultata positiva al test. Si tratta di una 48enne originaria di San Mauro Labruca, ma residente a Vallo. Da qualche giorno pare accusasse dei sintomi. Tutto il personale venuto a contatto con lei sarà sottoposto a tampone. Si procede con i piedi di piombo a Vallo, dopo che la prima infermiera risultata inizialmente positiva, Angela Di Pizzo, originaria di Cuccaro Vetere, ma anche lei residente a Vallo, aveva avuto poi un risultato negativo con il secondo tampone. Anche il risultato del terzo tampone arrivato alla giornata di ieri è stato negativo. Molto probabilmente dunque nel suo caso si sarebbe trattato di un falso positivo iniziale. L'infermiera non sarebbe stata mai contagiata. Quindi al momento quello di San Mauro Labruca sarebbe il primo e unico caso registratosi al San Luca. Intanto gli ospedali della zona restano al centro delle attenzioni, anche come ancora di salvezza per i casi eventualmente registrati sui territori. La comunità montana Bussento, Lambro e Mingardo ha dunque deciso di investire 50.000 euro a favore dei presidi di Vallo e Sapri per l'acquisto, in accordo con le esigenze espresse dai direttori sanitari del San Luca e dell'Immacolata, di ecografi, maceratori per la sterilizzazione delle attrezzature sanitarie e ventilatori polmonari, quest'ultimi compatibilmente con i tempi di consegna. Dobbiamo essere orgogliosi di queste iniziative, ha detto il Presidente Vincenzo Speranza, perché potenziamo delle strutture pubbliche, creiamo un rapporto tra due presidi ospedalieri fondamentali per il nostro territorio e mettiamo in piedi un potenziamento permanente dei reparti. Vincenzo Speranza